Il 10 ottobre per Global Project siamo qui in piazza Montecitorio con Chiara dei Draghi Ribelli e ci troviamo a 10 mesi dal voto di fiducia che è stato espresso il 14 dicembre a questo governo e oggi lo stesso governo chiede un altro voto di fiducia. I Draghi Ribelli da qualche giorno hanno cominciato un'ossuazione simbolica in via nazionale e oggi sono venuti qua, vogliamo chiedergli un pochino come sta andando e quali sono i prossimi appuntamenti anche in vista di domani. Sì, appunto è dal 12 ottobre che i Draghi Ribelli si sono accampati in via nazionale davanti al Palazzo delle Esposizioni sotto questa sigla occupiamo Banca Italia che ha girato molto tramite i social network e non solo. Oggi appunto la coda del Drago da via nazionale si è spostata qui perché in questo momento si sta votando la fiducia a questo governo. Non è la prima volta che ci ritroviamo in questa situazione proprio a sottolineare il fatto che questo governo non ha la legittimità per governare da più di un anno ormai e che si trascina avanti grazie a una compravendita di voti palese che è vergognosa. Come Draghi Ribelli appunto ci stiamo preparando alla grande manifestazione di domani 15 ottobre Global Change, Global Revolution, una manifestazione che vedrà impegnate tantissime città nel mondo appunto una manifestazione di carattere globale, noi a Roma ci aspettiamo una partecipazione molto alta e stiamo lavorando in questo senso sia con la comunicazione che preparandoci appunto alla giornata di domani. Te ringraziamo e da Grosvalda che si rimane tutto.